Amici di Dieta Flessibile, ben ritrovati con il nutrizionista più amato dagli italiani. Oggi sono con un'amica che vuole raccontarci come ha fatto a bruciare grasso, a perdere chili, mangiando i cibi che ama. E quindi diamo il benvenuto a Cristina. Volevo approfondire con te la tua storia. Sì, guarda, io vengo da una storia di Mattia, insomma, nel senso che io nel 2020, ovviamente, a seguito di un controllo, mi è stato diagnosticato un tumore al seno, molto aggressivo. Sono stata operata e ho iniziato delle terapie, soprattutto ormonali. Questo ha completamente stravolto la mia vita. Inizialmente, ma subito, in tre mesi, ho preso 30 chili. E nonostante io dicessi, sei tu che mangi male, sei tu che mangi male, e ho cominciato un'altra fila di nutrizionisti. Adesso, come sai, anzi, tu lo sai meglio di me, la moda è la chetogenica. Certo, sì, tra le tante che passa la moda, poi sì. Ma io, sempre eseguita da professionisti, quindi io sono entrata in un vortice di... non riuscivo a dimagrire, o dimagrivo due chili, con enormi sacrifici, perché poi la chetogenica è comunque... cioè, non c'hai mai uno spazio per una mica, per mangiarti una pizza. E ero tanto entrata in questo vortice, quindi perdevo cinque chili, appena terminavo la post-keto, immediatamente li riprendevo sei, sette. Come poi tu, spesso, è questo che mi ha colpito. Fino ad arrivare a un endocrinologo che mi ha prescritto i cibi quelli degli astronauti. E allora lì è stato veramente un baratro, perché io veramente mangiavo in quel modo, ma io ho perso tre chili in un mese, non mangiando nulla di cibo vero, ma solo quello. Cioè, erano più o meno liofilizzati o qualcosa del genere. Liofilizzati, cioè ci sono anche delle sorte di... Ma è una cosa, io penso che non si augura neanche al proprio... Ma tutto questo è stato... Appena tornavi a vivere una vita anche molto morigerata, rischizzava il peso. Peraltro, questa estrema situazione mi ha importato, da un lato sia la terapia, mi ha dato problemi tiroidei, dall'altro però le diete ketogeniche mi hanno alzato il colesterolo. Cioè, quindi eri in una situazione in cui avresti già una situazione squilibrata, diciamo, hai aumentato lo squilibrio con queste diete un po' sballate. Fino che la mia oncologa a dicembre mi dice, ah ma tu non puoi fare queste diete, devi fare una dieta normale. Ok. E io questa dieta normale, perché qualche cosa ti si crea psicologicamente, mi devo rimettere in quel circuito, ma tu non ce la fai a rientrare in quell'inferno. Anche perché non ti dà poi dei risultati effettivi. Per cui cerchi sempre qualcosa di, cioè, che comunque di sfuggire a questo mostro. Sì. Fino a che una mattina, era gennaio, io cliccando sento la tua voce che dice, devi mangiare come una persona normale. E lì ho fatto il paio con l'oncologa. Ho detto, allora questa è la strada. Qualcosa di verità ci sarà. Ma anche perché lì per lì, guarda, non ho neanche pensato a questo. Ho detto, le ho provate tutte. A questo punto non ho altre alternative, voglio provare anche questo. E è stato da subito, anche se io poi per via del, mi ha dato l'artrosi, l'ostoporosi, quindi non posso fare tanti movimenti, quindi so sempre un po' in faccio, cammino, ma insomma non è che possa fare chissà che, però io da subito mi sono sentita, cioè non a dieta, ero io che ero la padrona del mio corpo. Poi dentro di me mi dico sempre, io non sono a dieta, sto solo cercando uno stile di vita, che sia il più sano, il più oggettivamente, il più anche confacente al mio tenore di vita. Quindi questo è stato... Certo, Cristina, posso chiederti cos'era proprio delle altre diete? Perché mi ha fatto capire che essenzialmente mangiavi poco e niente, anche con quelle che mi menzionavi, ma cos'è che non ti dava soddisfazione, che ti portava a cercare proprio una soluzione? Visto che già eri in pietro. Innanzitutto i risultati che non sono, cioè tu non puoi vivere un mese mangiando leofilizzati o simili, ma solo quelli, perché poi prima o poi qualcosa lo ricerchi e quindi appena tu vai in vacanza tre giorni, cioè io ho perso tre chili in un mese, sono andata in vacanza tre giorni mangiando sempre poco e ho preso quattro chili, cioè che io ho detto, ma quindi questo, cioè è inutile fare il sacrificio se poi non ho i risultati duraturi nel tempo, no? Anzi, magari poi è peggio, cioè dopo è tutto bene, hai perso quelli giusti giusti, il minimo, e poi riprendi pure gli interessi, non è bello. Cioè non ha senso. E poi anche perché non si può vivere in questo limbo che in cui tu non, cioè in cui il cibo viene demonizzato, no? In qualche modo, perché bene o male comunque il cibo è anche condivisione, no? Amici. È un momento sociale, fa parte della vita. È un momento anche sociale, insomma. Fare l'eremita e poi chiudersi e ricadere gli inviti non è bello. Non è bello. Guarda, quando io ho fatto la prima intervista col primo ragazzo, mi ha detto, è perché si può mangiare il gelato, io gli dissi, guardi, guarda, io sono dieci mesi che non, cioè io sapevo l'ultimo gelato quando l'avevo mangiato. Lui mi ha detto, ma questa non è vita. E no. Dico effettivamente, non è vita. È pazzesco. Appunto, cosa è che ti ha convinto proprio a iniziare con dieta flessibile? Perché la prima cosa che molti pensano è assurdo. Io, è da anni che non mangio niente e non ho risultati, com'è possibile che ora tu mi dici che mangio tutto e posso dimagrire? Allora, a livello scientifico mi sembrava logico, no? Quindi anche se io non ho le competenze, però, cioè, se la somma di quello che io metto nel mio corpo è le calorie giornaliere divise in certo modo, mi sembrava estremamente logico. Poi le parole, vivere una vita normale, perché io ero passata una vita non normale e quindi anche questo non era alla lunga, psicologicamente non è sostenibile. E questo poi, in ultimo, diciamo, sono stati... All'inizio io ho faticato perché io non mangiavo abbastanza. Cioè io ho faticato a dover mangiare di più. Anche qualche sera dico, ma io tutte queste cose non mi vanno, non ce la faccio, no? Perché ero abituata a un tenore di vita in cui poi magari, come tutti, penso, almeno a me succedeva, cioè arrivava il momento in cui eri disperato, depresso, e in cui mangiavi, a quel punto si scatenava l'inferno, come dico io. Quindi tutto questo ha un suo perché, insomma. Capisco. Eh, posso chiederti che dubbi avevi all'inizio, prima di iniziare con noi? Quando hai capito come funzionava il programma, hai visto cosa diciamo di fare? Qualche dubbio magari te bevi. Allora, guarda, io ho sempre un po' per lavoro, ho sempre un po' paura delle cose su internet, no? Perché ne vedi tante, ne senti tante, no? Non sono neanche giovanissimo. Però io lì per lì ho detto, è la strada che fa per me, ecco. Avrò fatto tanti sbagli, però ho sentito tante, ho bisogno di trovare qualcuno che non mi faccia sentire colpevole, no? Anche questo, perché questo è molto importante nei coach. Perché se no è un conti, perché all'inizio Daniele mi diceva che è il mio coach e che ringrazio, mi diceva sempre ma tu ci segni tutto? Perché io non mangiavo tutto, mangiavo meno, quasi. Ma non me l'ha detto con fare inquisitorio o accusatorio, perché quando io ho girato tutti i nutrizionisti dell'Umbria e dintorni e anche medici, insomma, perché questo problema per me era importante, perché ingrassare significa anche dare un problema di recidiva al tumore, quindi insomma c'era tutta una situazione. Cioè, era ogni volta che io non ero capace a mangiare, non ero capace a fare sacrifici, cioè è sempre una questione, psicologicamente già ho il tumore, in più mi date la croce addosso, cioè uno non ci va. Invece il coach è sempre lì a motivarti, hai perso due etti, hai preso 50 grammi, va bene, va bene così. E questo è importante, importante per una persona che comunque si sente aiutata, no, mai giudicata. E questo è molto importante. Senti, qualcuno che cammina al tuo fianco, non qualcuno che sta in un angolo lì e ti giudica da lontano, cioè ti fa la strada insieme a te proprio. Questo è davvero importante. Dimmi un po', cioè, che risultati hai avuto? Parlamene un pochino, cioè, fino a oggi. Allora, io nonostante appunto continuo la terapia armonale e ho sempre problemi di tiroide, io ho perso 6 chili, diciamo, facendo pochissimo movimento, cioè, diciamo, l'esercizio lo faccio poco, ne faccio in parte, capito? Solo quello che riesco non mi carica alcune articolazioni. Però, diciamo che partivo da un metabolismo che era, secondo me, disastrato, perché ovviamente, cioè, io ci avevo messo sopra questo... Un po' maltrattato. Sì, maltrattato. Cioè, io all'inizio ho notato questa necessità, comunque, cioè, faticavo a mangiare di più e avevo anche un po' paura, dico, ma chissà, farò bene, farò male, no? Però, magari non è così, però, ero sempre... Cioè, io questi 6 chili, nonostante l'età, nonostante la menopausa, nonostante tutto quello che abbiamo detto, per me sono stati un successo. Ancora la strada è molto lunga, è da fare, è molto lunga. Però, diciamo, siamo su un'ottimissima strada, perché sai, Cristina, tante ragazze, donne, si lasciano fermare, magari, dal fatto che, ah, ma io ho la menopausa, quindi non posso più avere risultati, sto provando dieta X, Y, Z e non mi dà risultati, quindi vuol dire che per me non c'è più speranza. E tu, in realtà, sei proprio la dimostrazione, tu, come tante altre nostre amiche che ci hanno regalato queste interviste, sei la dimostrazione che, se facciamo le cose bene, senza fare le cose assurde da folli, i risultati si ottengono, indipendentemente dal fatto che c'è la luna storta, Saturno contro, la tiroide, il metabolismo, eccetera, cioè, basta fare le cose con un minimo di criterio fatte bene. Purtroppo, non tutti i professionisti ti fanno fare le cose fatte bene con criterio, questo, purtroppo, c'è da dirlo. E di tutti i risultati che hai avuto, qual è quello che ti ha sorpreso di più? Quello di poter vivere, cioè, di assumere uno stile di vita che tu non perderai mai più, perché io oggi sono in grado anche di valutare, ho anche, un pochino a occhio, vado fuori, il peso degli alimenti, io orientativamente sono in grado, bravissima ovviamente, però, cioè, so quello che devo mangiare, cioè, so quello che posso mangiare, no? Quello che è nel mio budget, cioè, è chiaro che se uno, cioè, io non compro una barca da due milioni d'euro se non me la posso permettere, no? Posso permettermi il canotto da 200 euro e quindi in quel canotto ci devo stare, nel senso che, cioè, poi può succedere, non è mai successo sinceramente, di avere, anche perché, vabbè, non ci ho avuto matrimoni, compleanni, cose particolarmente importanti, però, insomma, non mi è mai successo di esforare, semmai ero sempre sotto, ero sempre un pochino, anche per paura, no? Non arrivo a tutti, i pori, le calorie, per lasciarmi magari il momento che è capito, tutte e poste, cioè, magari dico, se mi lascio 100 calorie, se mi va il quadratino di cioccolata, la posso mangiare, poi magari non è che la mangi sempre, no? lo fai qualche volta, ma non se, ripeto, i primi mesi sono stati più duri, perché dovevo mangiare di più, e io non sapevo come fare. Non ero abituata, giustamente. Non ero abituata. Le diete, ci sta, lo capisco. Cristina, dimmi un po', diciamo, oltre a tutto questo, che appunto è fantastico, io sono veramente strafelice, di sentirti parlare in questo modo, tu, dopo quello che hai vissuto, dopo l'esperienza che hai fatto, a chi consiglieresti questo programma, cioè a che tipologia di persone consiglieresti di fare una strada del genere? Allora, io penso che la consiglierei a tutti, perché è la strada più logica, cioè, dietro questa teoria della dieta flessibile, c'è la logica, ma in tutto questo, io non c'è nessuna persona che non può, ma soprattutto che non possa seguire questa dieta, perché poi, è vero, sì, si pesa, ma è semplicissimo. Una volta che uno ci ha preso la mano, è estremamente semplice, e anche estremamente efficace. Sono assolutamente d'accordo, sì, una volta che, cioè, bisogna dedicarsi giusto a quei paio di minuti iniziali, per capire come funziona magari l'app e tutto, e poi, è tutto in discesa socialmente, quando hai un professionista che puoi contattare ogni secondo, perché ti mandi un messaggio, e ti puoi sentire. Quindi, sono assolutamente d'accordo, e non so quanti altri sarebbero disposti a stare, ecco, così tanto tempo dietro, diciamo, le persone, a seguirle, aiutarle, così a disposizione. Quindi, sfondi una volta a terra. Noi lo facciamo proprio perché amiamo aiutare, soprattutto perché amo sentire storie, poi, come la tua, di successo. E quindi, mi riempie davvero il cuore. Cristina, ti ringrazio tantissimo, grazie a te, di essere solo con me, di avermi dedicato questo tempo, e ti mando un grosso bacio e un grosso abbraccio. Grazie, grazie, grazie di tutto. Grazie a te, un abbraccio, ciao a presto. E quindi, se anche tu, che mi stai ascoltando, vuoi ottenere risultati come Cristina, che ha perso chili, nonostante tutti i problemi, che aveva e quant'altro, e ha potuto bruciare grasso, mangiando i cibi che amano, se vuoi farlo anche tu, commenta qui sotto, ti rispondiamo, ti mandiamo un messaggio, ne parliamo, vediamo come puoi fare anche tu, a bruciare grasso, mangiando i cibi che ti piacciono. Commenta qui sotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.